Pronto, suo figlio ha investito una mamma con un bambino. Sono il maresciallo ma ho contattato un avvocato che manderà un assistente. Tutto si risolverà consegnando oro o denaro. La truffa del finto carabiniere con la variante dell'investimento del bambino è oggi quella più diffusa. Vi abbiamo raccontato il caso accaduto a Foiano della Chiana. Ma in questi giorni, soprattutto nella zona della Val di Chiana e tra Castiglion, Fiorentino e Cortona, i casi sono stati a decine. Contemporaneamente anche dalla zona del Lazio vengono fatte segnalazioni su una serie di truffe proprio di questo genere. Insomma, un tipo di truffa che anche chi ci è caduto più o meno giovane raccomanda di evitare utilizzando la lucidità e comunque la telefonata si interrompe per contattare il parente e poi eventualmente richiamare facendosi consegnare il numero. Per quanto riguarda la truffa di Foiano, le indagini vanno avanti anche cercando di capire da dove i truffatori hanno telefonato. Insomma, prudenza e prudenza perché con l'avvicinarsi delle feste, in questo caso Pasquali, le truffe aumentano.